Ciamasini, una partita rocambolesca, riuscita a vincere solo nel finale, più parole? Sì, è stata una partita veramente pazza, soprattutto dopo averla ripresa sul 3-3, stavamo attaccando sempre, abbiamo preso il 4-3 sull'unica loro azione. Non male che sia riusciti a recuperarla, siamo stati bravi, c'è da migliorare qualcosa. Vittoria che forse può essere rilevata grazie ai primi 5 minuti in cui si è visto soltanto agivare voi, è vero? Sì, abbiamo iniziato la ripresa molto forte, anche perché comunque nello spogliato alla fine del primo tempo ci siamo detti questi che dovevano cambiare ritmo e tutto, ce l'abbiamo fatta, meno male. Una vittoria che da morale anche dopo la sconfitta in campionato con Roma, la prima sconfitta. Sì, era importante rialzarsi subito, uno dei nostri obiettivi è poi andare avanti il più possibile in Coppa Italia, ce l'abbiamo fatta, quindi siamo molto contenti. Questo campo si conferma un fortino per voi, sempre vittoriosi qui da Roma. Sì, anche noi ci scherziamo, però è vero, quest'anno il fattore a casa è molto importante, ma era logico visto il lavoro che hanno fatto, tutto molto bello.